Un anno fa un leone da tastiera aveva usato Facebook per rinsultare l'assessore Enzo Belloni, offendendo la memoria del padre scomparso. L'epilogo della vicenda è arrivato soltanto ora. Dopo aver chiesto il risarcimento danni per quelle offese, l'assessore è riuscito ad ottenere qualcosa di buono. Con l'importo ricevuto pari a 2.912 euro, Belloni ha acquistato una girella per una bambina disabile che entro febbraio sarà posizionata in un parco vicino a casa sua, nel quartiere di Soria. Io dico che su Facebook si può scrivere molto, ma non si può scrivere tutto. Ho deciso, senza fare tanto rumore, senza andare sui giornali, senza scrivere o spiatellare le 4.20, di procedere per i vie legali e di fare una denuncia. Ovviamente la cifra non mi interessava, non sono ricco, non divento ricco con qualche milione di euro in più, non mi interessava gestirla per me o comprarci un motorino, una macchina o andarci in vacanza, ma ho pensato che poteva essere utile per chi è meno fortunato di noi. Qualche mese fa una mamma che si è trasferita a Pesaro da poco aveva chiesto se era possibile mettere in un gioco, in un parco giochi a Soria. Allora ho detto, visto che io ho un procedimento aperto, se avrò il risarcimento chiederò la cifra esatta al millesimo per acquistare questo gioco. Appunto 2.912 euro nascono da 2.800 più IVA al 4%. Appena ho incassato l'assegno, ho proceduto all'ordine del gioco, il gioco è già in ordine, pensiamo che tra la metà di gennaio, la fine di gennaio lo installeremo. Devo dire che anche l'avvocato che ha seguito la mia parte, quindi Gerardo Saragoni Lunghi, ha messo a disposizione il suo compenso, quanto percepito, per integrare quell'area lì e quindi per dare una piccola risposta alla famiglia. Devo dire che la Sofi e sua mamma sono state molto contente di questo gesto, è una cosa che mi fa particolarmente piacere, conoscendo anche quel mondo lì direttamente.